Konnichiwa Ciao a tutti pandacorni e pandacorni Sono le 5 però sembra che è veramente serissima Adesso sto andando al centro commerciale E benvenuti in questo nuovo vlog Ma sto appunto andando al centro commerciale E poi vi vloggerò E niente ci vediamo quando sarò al centro commerciale Ragazze sono al centro commerciale E sono arrivata E niente adesso giriamo un po' per tutti i negozi Visto che dobbiamo comprare gli ultimi regali di Natale E visto che il Natale manca veramente pochissimo al Natale Infatti meno 5 e sono la persona più felice del mondo Ragazze sono da Pull&Bear Guardate questa cover con la tazza e il pan di zenzero Un sacco di magliori natalitti Le cistano i calzini Le schiacciaroce E' tutto bellissimo ma questa supera tutto Ragazze guardate questi altri cover E' un po' bellissimo ma questa bellissima E' un po' bellissimo ma questa è la più bella A parte quella di Natale Guardate quest'altra Poi c'è anche il gelato Ragazze sono da Zara E adesso vedremo tutte queste cose Ragazze guardate come sono carine Tipo guardate come sono belline Queste cose guardate come sono carine Pompon Oppure guardate come carine Ragazze guardate Ho comprato due cosine da Zara che vi farò vedere quando arriverò a casa E quindi niente adesso sto andando a casa Se non ci vuole le sette E quindi niente Ragazze guardate come sono belli questi peluche Sono giganti Sono mega enormi E tipo guardate L'unicorno gigantesco della Thai Qui i peluche della Thai I riporti medi Poi quelli piccolini I bambini bus Sono proprio belli Ragazze guardate Sono diventata un unicorno Perché ho messo il cappuccio con l'unicorno E per il bagno non ho messo quello del giubbino Ho messo quello della FIFA Quindi sono diventato un unicorno Ragazze guardate che belle le luci che ci sono Lì poi c'è il circo E' tutto bellissimo Ragazze sono tornata a casa E adesso vi faccio vedere una cosa che ho comprato da Zara E sono questi qua che sono degli stivaletti Molto molto carini Non avevo degli stivaletti così Fatti così con i lacci E mi piacciono veramente tantissimo Appunto sono i Zara E' molto carina Numero 35 Perché appunto le porto 35 E niente ragazzi Questo vlog è finito Meno 5 Natale Sono la persona più felice del mondo Noi ci vediamo al prossimo vlog Ciao Un bacione Nel prossimo video Sayonara Ciao